Per le informazioni in più che ho, su alcune imprese cercherò di incontrarle, ho detto questo tema della dismeco, poi ho tutto il pacco che mi hai consegnato, però so che hai il dischetto, quindi non ci provare a lasciarmi solo il pacco, ma anche questo tema bisognerà valutarlo insieme e vorrei finire dicendo una cosa molto importante che ho detto per la Seco che voglio esplicitare maggiormente, perché ce la facciamo? Ce la facciamo perché abbiamo scelto una strada in questa comunità che magari sarà vecchia ma che si sta dimostrando molto nuova, noi prendiamo le decisioni insieme, è questo che funziona, è questo che deve funzionare, ed è la nostra alternativa a chi ci spiega che bisogna decidere tutto dall'alto oppure a chi ci spiega che bisogna fare tutto da soli. Saeco è anche questo, i nostri imprenditori che ho sentito stasera sono anche questo, si può essere liberi davvero se si è una comunità come la nostra, sono molto stanco, però avete ascoltato tutti in silenzio, quindi è una bellissima serata, grazie. Grazie mille, grazie mille, il prossimo incontro sta a Imola.